DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Buonasera a tutti, siete su DJ Fox Radio, io sono Mauro e come tutti i venerdì vi do il benvenuto a Live Motel, un po' da Cologno Monzese, ma questa sera invece siamo a Torino al CPG, allo studio numero 3. Sono le 21 venerdì sera, il weekend sta per iniziare e noi siamo in compagnia di una band torinesissima che si chiamano Sedona, buonasera ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Benvenuti, allora benvenuto Dario e benvenuto ad Anna ovviamente. Allora, chi non li vede o li vedrà poi su YouTube, sono ben armati, sono arrivati veramente in assetto di guerra, con un bel equipaggiamento, proprio una specie di cervellone, come lo spiegano? Il nostro cervellone. Raccontami un po' che cosa, come è fatto lì dentro. L'unico cervellone tra noi, del gruppo, e niente, insomma, un po' tutto l'ambaradana è che man mano ci siamo creati e costruiti per essere anche un po' fluidi nelle nostre performance. Per semplificare forse un po' la vita, no? Sì, sì, perché poi diventa sempre più complicato, poi siamo solo in due. E quindi sì, effettivamente ci si semplifica un po' la vita e senza stare magari ogni volta anche nei concerti, andare a fare smontare, c'è già tutto lì e quindi è una... Esatto, esatto. Come avete fatto questa sera qua all'Avi Motel. Allora, Sedona, io ho letto, siete una band a conduzione familiare. Cosa vuol dire? Vabbè, si immagina... Sì, banalmente è perché siamo... non siamo una coppia. Siamo una coppia, certo. Abbiamo due bambini, insomma, siamo una famiglia in quel senso. Ma conduzione familiare anche perché facciamo e produciamo e autoproduciamo tutto quello che facciamo letteralmente in casa e quindi... Ecco, questa è una cosa veramente bella. Sì, è bella e comoda, diciamo, anche perché adesso, avendo appunto i due bambini, diventa, insomma, abbastanza complicato gestire... Eh, sì, lavoro e bambini. Quanti anni hanno i bambini? Hanno sei e... quasi sei e due anni già compiuti. Ecco, diciamo che sono... In età impegnativa. ...de piccoli diavoletti, ma... Esatto. Ecco, riuscite comunque, nonostante i pargoli, a dedicare anche tempo alla musica e a quello che... che è l'attività appunto musicale, concerti, avete persone che vi aiutano? Non abbiamo sempre la sensazione di riuscirci, ma di sicuro ci proviamo. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, però capisco che possa essere un po' difficile. Avete persone che vi aiutano, magari familiari, non potreste fare diversamente. Certo, sì, sì. No, no, poi vabbè, esistono le notti al punto in cui c'è un po' di libertà e quindi per fortuna si possono sfruttare, ecco, per portare avanti. Bene, allora ragazzi, noi abbiamo un bel po' di materiale, voi avete un album che è appena uscito, è abbastanza recente. È del 2018. Sì, sono due anni, comunque è dell'immediato. So che state scrivendo cose nuove. Sì. Però intanto è un album che va ascoltato perché contiene delle canzoni molto interessanti, sono molto radiofoniche, ci avete lavorato immagino un sacco. Sì, 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 ci abbiamo lavorato veramente tanto, sono, diciamo, molti mesi di lavoro e l'abbiamo fatto abbastanza minimale nei suoni, proprio per questo motivo, perché volevamo fare qualcosa di, diciamo, buona qualità e quindi senza straffare, ma quello che facevamo, facciamo, farlo bene. Cioè, abbiamo cercato di seguire questa strada. Va bene, allora io direi di iniziare con un po' di musica a questo punto. Allora, ricordiamo, Anna ha una chitarra elettrica, poi c'è Dario al basso e poi abbiamo una serie di campionamenti del cervellone che sentiremo. Ma è ovviamente tutto rigorosamente dal vivo, come sempre, come sempre succede a Live Motel. Può essere, a volte, la situazione un po' più canto-autorale, magari chitarra voce, piuttosto che... però abbiamo avuto anche delle session di DJ. Insomma, la musica non si ferma mai, in tutte le forme è sempre una cosa bella da vivere e da ascoltare. Cominciamo questa sera con Sedona, con che brano? Il primo brano è Giro Tondo. Sì, che è una canzone molto, molto piacevole e orecchiabile. Ce l'ascoltiamo subito. Sedona, questa sera per voi, a Live Motel. Sì, che è una canzone molto, molto piacevole e orecchiabile. Pianeta sterile, azoto e cenere, battito rapido, nucleo di polvere. Non c'è la cura, c'è solo la malattia, che si diffonde nei mari di apatia. Volpi nell'ombra, censurano, assolvono. Oggi condannano, domani graziano. Non c'è rimedio per i più fragili. Lacrime nel fanco, si asciugano danzando. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, tutti giù per terra. Giro, 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 tondo, brucia il mondo, trema la terra, inizia un'altra guerra. Pianeta debole, stanco di credere, in un futuro che non può decidere. Non c'è paura, ma voglia di andare via. Mondi lontani, colmi di nostalgia. Volti di pietra, fan finta di piangere. Per pochi spiccioli vendono lacrime. Non c'è rimedio per i più fragili. Lacrime nel fango, si asciugano danzando. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, che inizia un'altra guerra. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, inizia un'altra guerra. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo, brucia il mondo, trema la terra, tutti giù per terra. Giro, 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 tondo, brucia il mondo, trema la terra, e inizia un'altra guerra. This is Life Motel. Sedona questa sera a Life Motel, rigorosamente live, questo giro tondo, che immagino sia la canzone che voi cantate ai vostri bambini per farli addormentare alla sera. In effetti c'è il più grande che la canta così. Non la conosce, la versione vera. Se ne è dimenticata. Perché già mi immagino che il mondo che distrugge il fuoco, così, inizia un'altra guerra, i bambini dormono bene, ovviamente. Ci sentiamo un po' in colpa, effettivamente, per questo. Perché poi il problema è che anche all'asilo la canta in questo modo, le maestre rimangono sconvolte. E poi mi vengono a chiamare. Mi ho traumatizzato. Voglio cominciare a arrivare con i disegni, col mondo in fiamme, ecco. Si, già disegna solo supereroi, Star Wars. Eh beh, sei anni è come minimo, certo. Questa è l'età, effettivamente. Fissati siamo noi, quei supereroi. Sì. Stai anche un po' nerd. Abbastanza, sì. Quindi, allora, quei bambini, dicevamo, è molto difficile, effettivamente. Però, ecco, riuscite, se non altro, a dividere anche queste tematiche, no? Perché comunque questa era una canzone che pur avendo un ritmo o comunque è una cantilena abbastanza, diciamo, non dico infantile, no? Però l'avete, un adattamento, ecco, diciamo così, con un testo che riflette abbastanza in maniera vivida quello che è la situazione, forse anche con un po' di previsione di quello che stiamo vivendo in questi giorni con quei vari virus. Non l'avremmo voluto, però effettivamente è vero che si sta rivelando un po'. Sì, diciamo che esprime un po' la nostra preoccupazione, sia dal punto di vista climatico. Vabbè, quella del virus non è che sia proprio una previsione così, perché ogni anno ce n'è uno. No, quella non c'è. O c'è la viaria, o c'è i maiali, piuttosto che la mucca, cioè c'è sempre qualche cosa di cui proprio... Era una facile previsione, diciamo. Che anche quest'anno uscisse fuori. Sì, sì, qualcosa, è vero, è vero. Ecco, voi siete consumatori, immagino, di notizie, di cronaca, vi informate, insomma. Sì, cerchiamo, anche se effettivamente da quando abbiamo avuto i bambini tutto è un pochino più filtrato, diciamo. C'è stato un periodo in cui non riuscivamo quasi, però invece man mano che crescono cerchiamo anche noi di rientrare nel mondo. Eh beh, sì, sì, anche perché comunque chiedono tanto tempo e non puoi lasciarli mai, comunque se sono in casa non puoi lasciarli mai da soli. Ecco. Il progetto invece, proprio Sedona, quando nasce e come? Ma è nato il progetto, diciamo, alla fine, come Sedona, è nato alla fine, credo, metà del 2017, anche se poi è da dieci anni praticamente che facciamo musica insieme. avevamo fatto, iniziato con alcuni pezzi più densi, diciamo, elettronici, così, che avevano anche avuto, diciamo, erano anche... Un riscontro. Un riscontro, sì. E poi avevamo partecipato ad alcuni concorsi così con un altro nome e poi alla fine, appunto, abbiamo fondato questo progetto, appunto, Sedona, mirato su canzoni, appunto, col sound che ci piaceva, ma cantate in italiano, che per noi era una cosa abbastanza strana e diversa. Sì, anche perché la vostra musica è comunque abbastanza elettronica, però c'è una componente elettronica, ma anche una componente di musica, diciamo, analogica, no? Quindi chitarre, suonate, mixate, con... Sì, 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 anche nello stesso album ci sono in realtà due o tre brani molto più acustici, proprio rispetto a, per esempio, questo che avete sentito anche gli altri che sentirete, e in effetti è venuto un po' così, diciamo, tira fuori un po' entrambe le anime. Quella, diciamo, passata che era in effetti più elettronica e poi... Quella più rock. Quella più rock. Quella più classic, classic rock, ecco, diciamo così. E voi arrivate da che tipo di cultura musicale, ecco, negli anni? Un po' tutte, diciamo che c'è anche la differenza di età tra noi due, quindi abbiamo culture musicali un po' diverse. Io, diciamo, ho vissuto anche la parte cantautorale italiana, o rock italiana, quindi, diciamo... Negli anni 80, 90. Lei, Vasco Rossi, non sa chi sia, in pratica. Non sa chi è. Io ho vissuto anche quella. Però diciamo che il punto d'incontro è stato... Il punto d'incontro, in senso figurato e in senso letterale, nel senso che ci siamo incontrati letteralmente, conosciuti, per via del nostro gruppo. Diciamo, all'epoca era il nostro gruppo e tutt'ora... Quindi eravate semplicemente bandmates. Esatto, esatto. Il nostro gruppo preferito, che erano gli Oasis. Eh, insomma. E beh, racconta tu come ci siamo conosciuti. Sì, in pratica, lui suonava una ben tributo degli Oasis, erano molto bravi. Io sono andata una sera a sentirli e noi non hanno suonato perché avevano chiamato la polizia e facevano troppo rumore. Insomma, non li hanno lasciati suonare. Però lì è stata un po' l'occasione per incontrarsi. Cioè, vabbè, ci vediamo un'altra volta. E poi, insomma... È un po' come è successo nel 2009, quando dovevano suonare e poi non hanno suonato. Sì. Avete fatto una specie di... Sì, sì, abbiamo fatto... Coerente con lo spirito della band. La reunion show del mancato show del finale degli Oasis, che poi alla fine si sono smembrati. Ma come la pensate oggi sugli Oasis? Si riformano? Non si riformano? Vorreste che si riformassero? Non ve lo vorreste? Allora, vorrei. Mi piacerebbe, però secondo me per un po' non succederà perché Noelle è troppo arrabbiato. Ma chi è il più scemo dei due, secondo voi? Sono due coglioni. Fanno a gara, eh. Ma detto nel senso buono, eh. Però sono due coglioni. Noelle sta facendo un po' il cattivo. Noelle è più cattivo. Eh, sì, sì. Invece Liam è più buona. È più stupido. È più stupido. Fa un po' più lo stupido. Però è un buono dentro secondo me. Ma sì, possiamo farla la pubblicità. Noelle abbiamo scritto un brano proprio sulla Lite Trano e Liam. E c'è anche un video su YouTube. Possiamo dire come... Ma certo. Il titolo del brano è Brother Potato. Sì. Vabbè, che è quello che Liam dice. L'ha detto, esatto, dal fratello. E se uno mette Brother Potato e come siamo, come Britannians è un altro nome perché è una cosa che abbiamo fatto parecchie tempo fa. È una specie di fanficio. Sì, sì. Esatto. E uno può sentire la canzone, insomma, effettivamente è fatto un po' in quello stile. Secondo me è una cosa carina. Voi li avete visti, gli Oasis dal vivo? Io li ho visti un paio di volte. Sì. Io tantissime. Eh, sì, sì. Anch'io li ho visti un po' di volte ed era una bella esperienza, ecco. Sì, sì, sì. È stata decisamente una bella band, un po' sopravvalutata, eh, magari, perché, insomma, c'erano... Per esempio, ci sono delle band che, dei gruppi che artistiche, secondo me, ci sono gli Stereofonics che suonano ancora adesso e suonavano già allora, no? Quindi, per esempio... Il profo che ci piace molto. Kula Shaker, per esempio, mi piaceva da morire. Oh, Kula Shaker, anche a me. Li ho visti anch'io diversi anni. Mi fanno impazzire. Sono bravissimi. Sono incredibili. Anche loro veramente sottovalutati. È vero, perché... Cioè, hanno delle canzoni meraviglie. Hanno fatto dei dischi meravigliosi, no? Eppure fanno fatica a diventare un fenomeno come meriterebbero di essere, no? È vero. Io li ho conosciuti per caso, perché avevano aperto un concerto degli Aerosmith negli anni 90 e mi ero innamorato subito di loro. Poi li ho visti altre volte. Eravamo venuti anche a Torino, tra l'altro, a suonare. Sì, sì, sì. L'abbiamo suonato... Nel 2009, forse. Li abbiamo visti, in realtà. Eravamo... È il corso Giulio Cesare. Sì, sì, sì. Eravamo insieme, effettivamente. Era stato un concerto pazzesco. Poi li ho visti ancora a Milano due anni fa, più o meno. Sì, ma sono una band che comunque ha attraversato dei periodi che si erano sciolti. Sì, sì, sì. Poi c'era un altro gruppo, anche parallelo. Comunque Crispian Mines è sempre uno che è sempre sul pezzo. E anche il bassista, Lonza Vivan, è bravissimo. Lui ha anche suonato con Johnny Marr. Sì, e io li ho visti qua all'Iroshima con Johnny Marr e Zack Starkey, il figlio di Ringo Star, nonché batterista degli Who alla batteria. Anche quello era un progetto molto interessante. Sì. Decisamente. Va bene, allora, ragazzi, torniamo invece ai Sedona e torniamo alla vostra musica su cui è puntato il faro di Live in Motel di questa sera e ascoltiamo un altro brano, sempre di questo album, che si chiama Dario Alieno. Sei preparato? Allora, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo il brano Alieno. Benissimo. Tu c'è anche un singolo e c'è anche il video. Benissimo. Allora, ancora con noi questa sera Sedona a Live in Motel. Io sono un alieno Non sono come voi Non è nelle mie pene Il sangue degli eroi Non posso imitarti Risulterai grottesco Io devo imparare Passare al mio posto Io sono un alieno Eppure vi somiglio Dell'essere umano Devo aver perso il meglio Non conta come vi va Dentro la mia pelle Se quando mi guardate Vedete cose belle Vedete cose belle Sono fatto di roccia Di carne Di porcellana E sto ancora cercando Una stella La più lontana Io non so Perché un giorno Ho perso Questo pianeta Perché sono rimasto Ma sto senza Una via D'uscita Io sono un alieno Ed ora Ed ora L'ho capito Il mio silenzio Ed oro Un tratto acquisito Io devo pazientare E farmi una risata Ma senza Ma senza Ma senza esagerare Non essere Sguaiata Sono fatto di roccia Di carne Di porcellana E sto ancora cercando Una stella La più lontana Io non so Perché un giorno Ho perso Questo pianeta Perché sono rimasto Senza Una via D'uscita Tutto l'universo È rinchiuso in me Invisibile Sotto la mia Pelle Tutto l'universo È rinchiuso in me Invisibile Sotto la mia Pelle Io non so Perché un giorno Ho perso Questo pianeta Perché sono rimasto Senza Una via D'uscita Perché sono un alieno Ed io qui Mi sento Perso Tutti che mi ricordano Quanto Io sia diverso Sono più fortunato Sono più fortunato Adesso Così Sotto la mia Ma io Vedo la vita Soltanto Non sanno Chiare Live Live Motel Sedona Ancora questa sera Con noi Live Motel Eccoci qua Questo era alieno Ecco Un punto di vista Diciamo da Da fuori Sì Praticamente Come se un alieno Vedesse Diciamo che L'alieno in questo caso Vorrebbe essere una metafora Per parlare Della condizione Femminile Nel senso che Insomma Molto spesso Si sentono quei discorsi Come Le donne Hanno determinate caratteristiche Che possono essere Sia positive Che negative E si parla Insomma di noi Loro Come se fosse Una specie a parte Che non è proprio Un vero essere umano Ma qualcosa di simile Che non è poi così sbagliato A volte Io pensavo Che parlasse di alieni La canzone L'ha scritto lei il testo No no Vabbè Le donne certo Sono creature pazzesche Incredibili A volte comunque C'è un po' di Con gli uomini C'è un po' di Incomprensione Perché hanno Tutto A volte Fanno dei ragionamenti Che sono Eh ma sei Argomento Su cui lei è molto sensibile Ma parliamo Del festival di Sanremo Altro Altro In realtà Argomento polemico Proprio per questo No Bene No sai che c'era stata La cosa di Amadeus Già è vero È vero Anche lui Se ne ha fatto un po' Un'uscita prima Sì sì Era stato un po' Un sessista Sì sì E adesso siamo in un momento In cui invece si comincia A pensare che comunque Queste parole hanno un peso Anche per le persone che Esatto Infatti Bene Mi piace parlare con voi Anche a noi Però mi piace anche Ascoltare la vostra musica Che proseguiamo Quindi a questo punto Con che cosa? Con Verba Manent Per l'appunto E le parole Parlando di parole Che quelle che rimangono E a volte rimangono Le appese Per un bel po' di tempo Bisogna darle poi a sgarvugliare Per non beccarsi Dalle querele Che è il singolo Che poi Non è stato un singolo E la canzone Che però Dà il nome All'album Benissimo Lo ascoltiamo subito Allora questa sera Con noi Sedona A Live Motel Con la mia conversazione Sono fuori dal comune Vedo tutte le lagune Della tua formazione Faccio artichie Equilibrismi Sostenendo tre giudizi Sono solo i meccanismi Con cui io ti faccio pezzi Io non sono come gli altri Io che parlo senza fitto Io non provo eppatia Solo un'altra poesia Sono pronta A distruggermi Quando tu non vuoi arrenderti La mia droga La mia malattia Per sentirmi Molto meglio di te Ogni mia sternazione Suona caustica e brutale Ma per me è fondamentale Scatenare approvazione Voglio fama Glorie e stima Sono disposta Ad ogni cosa Arrabbiata E rancorosa Ma feroce Più di prima Sono pronta A distruggerti Quando tu non vuoi arrenderti Quando tu non vuoi arrenderti La mia droga La mia malattia La mia malattia E sentirmi E sentirmi Molto meglio di te Sono pronta A distruggerti Quando tu non vuoi arrenderti La mia droga La mia malattia E sentirmi Molto meglio di te A distruggerti A distruggerti A distruggerti A distruggerti Che adesso stiamo cercando Di tarare Man mano che suoniamo Però alla fine Ce l'abbiamo fatta Il suono è perfetto Allora infatti Quelle che sentivate Sono le Sono le basi Sono dei campionamenti Sì 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 Sono in realtà Gli arrangiamenti Che ci sono nel disco Noi diciamo A seconda delle occasioni Può capitare Che ci si presenti Col batterista Oppure diciamo In altri casi Siamo solo noi due Come duo Che siete autonomi Esatto Siamo autonomi E bisogna gestire Anche questo Questo aspetto Perché Fa parte della conduzione Familiare Esatto Beh quando siete in band Completa Quanti arrivate anche a essere? In realtà in tre Ah in tre Quindi c'è solo il batterista Sì sì C'è solo il batterista Sì sì Anche perché più si è E più è bello Sì capisco Da soddisfazione Però è anche più difficile Gestire Gestire Poi anche Gli locali Vogliono pagare Sempre meno Insomma ma la storia È sempre la stessa Alla fine Sappiamo benissimo Come funzionano Queste dinamiche Così è molto Tristemente Tristemente Sì 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 In effetti La scena musicale Per le band emergenti O comunque così È abbastanza triste Sì 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 Assolutamente Allora ragazzi Noi siamo arrivati Al momento di ascoltare Il singolo Che abbiamo scelto Che abbiamo scelto insieme Anche voi Auf Wiedersehen Sì Ok Adesso ce lo ascoltiamo In studio Fatto e finito Prodotto e laccato E ci vediamo il video Perché ci sta guardando Su YouTube Ma state con noi Perché torneremo Subito dopo Con Sedona Dal vivo Sempre a Live Motel Su DJ Fox Radio Spengo il firmamento Delle frasi fatte Che smorza i sensi E accendo L'universo Delle mie domande Che ruota intorno Ai sé Cambio prospettiva E torno in equilibrio Instabile cose Che mi fa traballare Sopra il filo Della mia integrità E attendo una risposta Che non c'è Il tempo cambia il mondo Ma non me Il grigio dell'asfalto E' il colore più prezioso Quando vivi bianco e nero E tutto E' solo immagine E' solo immagine Povere anime Povere anime Per sé nelle tene E' solo immagine Oh 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 L'indico Fiderse Limpida L'immagine Del desiderio Che non si avvera Paradigma Nobile Ma deleterio Che grava su di me Taglio i ponti fragili Col mio passato Remoto stile Cercherò la pace Sotto un bel colato Bevendo un buon caffè Ma forse la risposta E' dentro me Il come conta meno Del perché Il grigio dell'asfalto E' il colore più prezioso Quando vivi bianco Quando vivi bianco e nero E tutto E' solo immagine Povere anime Per sé nell'etere Vidi confiderse Le parole possono fare male Impariamo a non prendere in giro Ma ad apprezzare le diversità Diverso, uguale, unico No al bullismo DJ Fox Radio siete sempre con noi A Live Motel Questa sera abbiamo con noi Sedona Questo era il singolo Che si chiama Auf Wiedersehen Quanti singoli sono stati tratti Da questo album? Due Questo era stato il primo Il secondo è Alieno Dove abbiamo fatto anche il video Ecco, come vi organizzate Per i video? A chi li fate in maniera Anche questa? A condizione familiare Oppure li affidate a qualche videometra? No, questo l'abbiamo affidato a un regista Che si chiama Simone Gazzola E lui è toscano Ed è molto molto bravo Almeno, noi è piaciuto molto Ecco, le idee vengono a chi? A voi? No, è lui che ha ideato Diciamo la mini sceneggiatura Che c'è nei video Quindi sì Diciamo che il primo L'abbiamo girato Auf Wiedersehen L'abbiamo girato interamente in Toscana Sì Invece il secondo Quello di Alieno L'abbiamo girato La location diciamo L'abbiamo trovata noi E l'abbiamo girata Ad Alba Ah, bellissimo Al liceo artistico Al liceo artistico di Alba Dove appunto c'erano esposte Dove avete offerto Barolo a tutti C'erano, ci sono esposte diciamo Dei lavori, delle opere fatte Dei ragazzi che lavorano lì Che studiano lì Insomma È stato così Suggestivo In quel caso A voi piace il cinema? Molto, sì Sì Riuscite a trovare anche il tempo di andarci? Ci troviamo Però guardiamo moltissimo A casa Affittando Su Netflix Su Prime Sì, sì Ormai il cinema è portato in casa E anche perché Io sai che Anche a me piace molto il cinema Però ultimamente Trovavo un po' Essendosi abbassata un po' A livello di educazione Delle persone Secondo me Diventa Diventa un po' difficile Sai le persone che comunque fanno Salottano No? Gli schermi dei cellulari Diventa Ah, sì La soglia di attenzione Di attenzione e anche di educazione Proprio Del rispetto magari Del silenzio degli altri Non so Io la vedo un po' così Sì, sì Però effettivamente Anche Proprio i film Ormai che vengono portati a casa Con i sistemi di streaming E tutto Sì Sì Poi diciamo adesso anche Le televisioni Con gli schermi piatti 60, 70 Mille pollici Esatto Quindi Diciamo che si riesce a godere Abbastanza bene È un bel Sì Anche in casa Noi non è che abbiamo questa Cioè No Io soprattutto Lei magari è più interessata A varie cose Io sono abbastanza Appunto nerd Nei gusti Quindi mi piacciono tutte le cose Dove Insomma Gli alieni Gli extraterrestri Sì Siamo che entrambi Siamo appassionati di fantascienza Quindi su questo Ci troviamo molto Mi piace molto l'horror Anche noi È un campo però Molto minato Perché Ci metti veramente un attimo A buttare via un'ora Per esempio Io ho visto recentemente Il remake Della bambola assassina Che L'originale Era stato bellissimo Secondo me Il remake Secondo me Proprio Non ci hanno preso niente Un po' personale Sì Non so se l'avete visto I remake sono sempre un po' Un campo minato Sì 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 È veramente un rischio Molto grosso Però di film horror Ultimamente belli Ne abbiamo visti un sacco Devo dire Adesso ne fanno due Ne parliamo Perché abbiamo qualche suggerimento Dopo Quando finiamo Mi faccio dare una lista Perché c'è sempre Sempre pronto E invece io tornerei alla musica Allora a questo punto Abbiamo ascoltato Fidersen in studio E torniamo alla musica dal vivo Qui al motel Con i Sedona Che Propongono In tema horror In tema horror Panico È un brano che però Non c'è nell'album È un brano Inedito Benissimo Ce l'ascoltiamo Con tanto piacere Sedona inediti Allora questa sera Con noi sempre Alive Motel La televisione parla di invasione E la paura E la paura Che cancella La storia Troverai sui social Ogni informazione Un solo poste Desetterà La memoria La televisione parla di emergenza Nei tempi Nei tempi bui ci vuole La mano forte Vengo libertà E compro Sussistenza Nelle tue mani Metterò La mia sorte Panico Panico È panico Son ferma in mezzo al traffico Nel traffico Le luci mi confondono Confondono E mi attraversa un brivido È gelido È panico Panico È panico La televisione spegne la ragione E con un like E con un like Condivido la morte È un conflitto Cosmico O soltanto Pánico È un conflitto Cosmico O soltanto Pánico Panico È panico Son ferma in mezzo al traffico Nel traffico È un conflitto È un conflitto È un conflitto È un conflitto E mi attraversa un brivido È gelido È panico Panico È panico È panico Bloccato in mezzo al traffico Nel traffico È un conflitto Notizie che martellano Martellano E smunta un nuovo libido È vivido È panico Panico È panico È panico È panico È panico È panico Panico È panico È panico È panico Panico È panico È panico È panico È panico Live Motel Il Panico dei Sedona Live Motel questa sera con noi E allora questo ricordiamo che è un brano che non è compreso in questo album e noi siamo veramente felici a DJ Fox Radio di averlo ascoltato un po' ma magari non è in anteprima magari lo fate già dal vivo L'abbiamo già fatto dal vivo Sì Non è la prima volta che lo facciamo ma è l'ultima nel senso che Ah Non lo farete mai più No lo faremo ancora ma nel nuovo album sarà con un arrangiamento completamente diverso Ok per dire In effetti l'abbiamo fatta però secondo me questo verrà trasmesso prima di quello Ah sicuramente vero Quindi in realtà è in anteprima Ah ok quindi Il discorso di ritorno al futuro no quindi Sì no perché abbiamo fatto appunto un programma dove registravano diverse band Certo sì sì Tutto quanto però noi siamo finiti al fondo Al fondo certo Della graduatoria Sì diciamo della scaletta e quindi saremo a dicembre Va bene Sentite ragazzi voi siete social Abbastanza Lei sì Lei molto Voi avete la pagina Facebook che è un bel casino trovarla eh 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 Bisogna dire Perché non basta scrivere Sedona Bisogna scrivere Sedona Sound Sì perché Sedona è il nome di una città americana Quindi ovviamente tutte le attività di Sedona Tutto quello Quindi se volete andare a trovare i ragazzi su Facebook Dovete fare Scrivere Digitare Sedona Sound A questo punto viene la pagina con la testina nera con scritto Sedona e quindi è quella Esatto sì sì sia su Facebook sia su Instagram Sì sì Purtroppo Sedona era già preso come Eh sì perché comunque su Facebook è quando puoi tranquillamente prendere i nomi più volte Sì 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 Poi magari ti cambi qualche cosina cambi la mail però in effetti c'è questo È vero Voi siete in genere comunque sei tu più social di Ma diciamo che io ci provo Devo dire che nessuno dei due è molto versato nel Diciamo nel Non siete sempre a fare storie una dietro l'altra No no Però funziona E lo so lo so Dovremmo farlo di più Diciamo che bisogna avere anche un po' l'atteggiamento social Nel senso che uno deve avere quando in giro dire dai ci facciamo una foto Fotografo questa cosa facciamo il video di questo Che non siano i piatti Esatto E noi su questo Diciamo Manca un po' Sì diciamo che magari tipo quelli più giovani di noi hanno più questo spirito Noi invece ci stiamo insomma Attrezzando Ci proviamo ma non abbiamo la stessa La stessa La stessa La stessa Quelli che si fanno gli altri perché effettivamente poi c'è chi Mette la foto di Non so sta mangiando il panino a prosciutto Mette la foto di quello e riceve Diecimila È vero E diciamo ma no ma chi vuole che gli interessi che stiamo facendo magari Ma io ho anche ragione un po' così Io infatti su chi mi segue Chi mi conosce gli amici così che Sanno che io ho più che roba in avanti alla radio Non faccio non è che Ma non metto neanche le foto quando vado via I viaggi perché anche quella è una cosa che secondo me Fa paura perché dire boh sono un mese al mare no Sai È vero Io ci penso e ho letto anche che non è il massimo della vita Far sapere Sì vanno fatti in retrospettiva Secondo me Quando torni metti le foto Sai noi ci lamentiamo tutti della privacy che ci viene in base Ma quante volte la regaliamo invece la nostra privacy Sì è vero Quindi In realtà ne stavamo parlando proprio venendo qua Perché lei diceva giustamente Bisogna fare attenzione in questo periodo Perché un sacco di band Hanno subito furti della loro strumentazione Proprio mentre andavano al concerto Io le ho detto guarda Chi ci calcola Chi ci calcola Quindi non siamo diciamo Però effettivamente bisogna fare attenzione Io ho amici che sono stati svaleggiati il furgone Sì 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 ma succede veramente un sacco È allucinante Allora ancora musica a questo punto Io stiamo parlando ripeto mi piace parlare ma mi piace anche far ascoltare la musica perché è un programma musicale e la musica dal vivo è quella che fa andare avanti veramente il mondo della musica ormai i grandi concerti e anche i grandissimi artisti fanno quello perché comunque i dischi se ne vendono sempre meno e sono costretti anche loro. Noi andiamo in pensione a 67 anni ma loro devono fare i concerti fino a 80 Ci dovreste qualche altro miliardo Per andare per continuare a fare a fare soldi Sedona cosa ascoltiamo? Allora il prossimo è un brano che si intitola solo è spento ed è una cover Bellissimo Non è un brano nostro E ce lo ascoltiamo allora Sedona ancora con noi Ovviamente di teoria Sì sì di teoria Ancora questa sera con noi a Live Motel E ci sono giorni in cui mi sveglio spento E tutto sommato provo a starci dentro Nella mia stanza aspetto il mio momento E tutto sommato Sono qui Aspetterò Io aspetterò Io aspetterò Quando la vita sembra un treno lento Guardo gli amici fuori e muoio dentro E la mia generazione senza vento Sono qui Aspetterò Io aspetterò Finché arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero tu Stammi accanto, sole spento Io ti sento Io ti sento con me Quando sei condannato al pentimento E stacco E stacco di sentir dire Non ho tempo Non ho tempo Come in un sole in cui sentire freddo Sono qui Aspetterò Aspetterò Io Aspetterò Aspetterò Finché arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero tu Stammi accanto, sole spento Io ti sento con me Io ti sento con me Oh 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 Yeah Io Aspetterò Aspetterò Io Aspetterò Oh Yeah Sin chiarire arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero tu Stammi accanto, sole spento Tu sei dentro di me Questo è Life Motel I Timoria riletti magnificamente dai Sedona con questa versione di sole spento che era veramente interessante Qual è il motivo che vi ha spinto a scegliere questo brano? Colpa mia In realtà il motivo è che avremmo dovuto suonarlo con Omar Pedrini in un'occasione che poi purtroppo è saltata per motivi tecnici, burocratici Non so se conosce l'Alta Langa Festival che l'hanno fatto per diversi anni dovevano organizzarlo anche l'anno 2018 2018, sì e dovevamo partecipare però poi insomma non sono stati trovati fondi e tutto quanto e quindi ciao Pedrini però è rimasta la canzone ovvero che ha un suo perché certo, assolutamente Comunque in realtà il povero Omar Pedrini sarebbe andato lo stesso perché lui è anche cittadino onorario del paese lì in Alta Langa è un grande musicista in realtà è proprio un po' il problema organizzativo non voglio far passare a Omar Pedrini con quello venale che ha chiesto troppo cash no lui è stato poverino super disponibile io per esempio sono molto più orientato verso di lui che Renan Reng per esempio non se ne parla proprio decisamente però ma proprio non c'è, non lo vedo neanche ecco diciamo così l'ultimo album di Omar Pedrini secondo me delle canzoni meravigliose ma gli ultimi, almeno gli ultimi due poi vabbè è stato sfigatissimo, ha avuto un casino col cuore insomma si è cagata anche in mano amica foto però insomma tutto si è risolto e meno male ce l'abbiamo ancora tra di noi bello, felice, roccheggiante come ci piace sì 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 ragazzi come siete organizzati voi qui live? che territorialità avete? come... dove? ma diciamo un po' dove ci porta il vento in questi giorni ce n'è tanto ma adesso e in questo momento diciamo ci siamo un attimo fermati anche perché stiamo già lavorando sul disco nuovo e quindi diciamo ci stiamo preparando per quello poi per varie ragioni abbiamo avuto delle diciamo date l'occasione di suonare in Toscana soprattutto perché in realtà chi ci ha curato diciamo la distribuzione del disco era appunto è toscano e quindi anzi Giovanni Germanelli Giovanni Germanelli che ringraziamo e salutiamo e quindi diciamo ovviamente lui poi ci ha trovato nell'occasione in quella zona lì poi abbiamo avuto insomma con bambini a seguito con bambini a seguito sì sì anche con noi anche noi però primariamente diciamo provincia di Torino e di Cuneo dove ci muoviamo di più e quindi ricordiamo allora Sedona potete trovarli ovviamente su tutti i digital store perché comunque il vostro album si trova su tutte le piattaforme di streaming come vi trovate voi con questo sistema? perché voi vabbè avete non siete ragazzini dell'ultimo c'è di tre decenni e quindi non è che vivete solo di cellulari o cosa ma avete vissuto il cd avete vissuto il vinile quindi come vi trovate oggi invece con con questi servizi di streaming? ma in realtà meglio anche perché è l'unica possibilità che c'è diciamo oggi e tutto sommato è una possibilità che come dicevi tu quando avevamo i calzoni corti non c'era io avevo l'LP, registravo la cassetta sì la cassettina che si mandava era un'altra vita diciamo la guardi con un po' di malinconia però dice adesso cioè veramente quello che un tempo ci mettevi due giorni perché prendi e registra adesso lo fai in un attimo sì 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 incluse anche i video è inclusa anche la musica stessa sì ed è anche quello che ci dà la possibilità anche noi di fare la nostra musica di provare a proporci agli altri perché ovviamente fosse stato negli anni 90 a meno di non avere dietro l'etichetta il produttore insomma questo è e questo è diciamo il lato buono e cattivo della musica di oggi no perché volendo vedere la trap per esempio a chi piace a chi piace a chi non piace certo che comunque è musica fatta in casa praticamente sì 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 tutti la possono fare ecco poi sai se vogliamo stare a fare proprio analizzare quello che rappresenta la trap per i giovani oggi che è un discorso rimane il fatto che non me lo toglie nessuno della testa che sentire suonare delle persone veramente è un'altra cosa sì è un'altra cosa sì sì effettivamente però il suono finale che è una pochezza di suoni cioè se tu paragoni non so un pezzo trap a un pezzo dei dream theater scusami ma c'è un abisso ma è veramente quello che io trovo più povero della trap più che il suono che in realtà nel suo genere secondo me ci sta molti sono anche fatti bene e magari un po' la pochezza dei contenuti eh sì ma anche perché comunque essendo musica fatta e dedicata ai ragazzi molto giovani non possiamo pretendere o pensare che abbia non vissuto no di cosa parli? sì questo vale hai ragione è un discorso verissimo che faccio anch'io spesso con lei cioè il fatto ma non vale in realtà solo per la trappe vale anche un po' in generale per i vari reality piuttosto che amici o cose del genere che per carità massimo rispetto per tutti quelli che lo fanno i conduttori e i ragazzi che lo fanno però effettivamente come dici tu cioè sentire un ragazzino di magari 16 anni che parla delle sue sofferenze certo non è credibile non è credibile poi per carità non dico che non ci sia ragazzine però non è credibile cioè che effetto può avere su chi ha la nostra età e questo è un po' il a parte chi le lauro sono una grande fan va bene ragazzi siamo belli che alla fine è passata un'ora io vi ringrazio tantissimo per la vostra musica grazie per aver suonato con noi e per chi ci ascolta ricordiamo live motel tutti i venerdì alle 21 su dj fox radio ricordiamo domani sabato alle 20 la replica di questa puntata dopodiché domenica sarà disponibile il video di quello che è successo qua questa sera sul canale youtube live motel dj fox radio grazie sedona grazie mille e ci aspettiamo al prossimo album allora senz'altro grazie mille grazie ragazzi ciao 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 dj fox radio station la più attenta selezione musicale ciao